Ascotrade, liceo gas, energia dalle nostre mani. Al soffio di un'idea, alla come Gesù, in chiesa o dentro una moschea. E gli altri siamo noi, ma qui sulla stessa via, vigliacamente eroi. Lasciamo indietro i pezzi di altri notti che ci aspettano e si chiedono perché nascono e subito muoiono. Forse rovini, foglie d'Africa, ci sorridono di malinconia. E tutti vittime, carnefici, tanto prima o poi, gli altri siamo noi. In questo mondo gli altri siamo noi. Quando nascono, quando muoiono, gli altri siamo noi. Noi che stiamo in comodi, deserti, di appartamenti e di tranquillità. Lontani dagli altri, ma tanto prima o poi, gli altri siamo noi. Sì, gli altri siamo noi. Fra gli indios e gli indios, ragazzi in farmacie che ormai non ce la fanno più. famiglie di opera illicenziati dai romani e zingari dell'est in crisi e di periferie siamo tutti vittime e cannevici tanto qui non muoio gli albi siamo 21.12 sempre in diretta con Focus è la serata dei Veneti schiacciati dalla crisi e vedremo tra pochissimo un'intervista esclusiva un paraplegico che ha perso tutto in Veneto Banca e adesso è in gravissime difficoltà perché ha bisogno di risorse per continuare a vivere e ha bisogno di un'assistenza quotidiana e poi vedrete di spalle un imprenditore uno dei tanti imprenditori che sono precipitati in una voragine dopo aver attraversato una fase difficile della loro vita che hanno in questo caso qui taglia in casa hanno dovuto vendere quello che avevano gli è stata confiscata la macchina hanno perso il lavoro insomma sono storie drammatiche che raccontiamo sempre qui a Focus il giovedì sera intanto vi presento gli ospiti di questa serata Gabriele Donadella disoccupato, scelgo, ora sera grazie donna sera scusa dell'abbigliamento ma è stato tutto in progresso si può venire anche in maglietta non c'è problema grazie chiedo scusa Alberto Marsotto e Pietro Bortolin fanno parte di Assimpresa San Marco grazie dell'ospitalità come sempre ci mancherebbe aiutano gli imprenditori di difficoltà per cui parleremo molto di aziende in crisi Mirella, ciao buonasera a tutti buonasera direttore sai che sta nevicando almeno qui fuori da Capannona vuoi a dirne una roba? ma semmai io che cosa una volta si diceva è arrivata la bianca visitatrice per fortuna non si dice più nevica governo largo nevica governo largo Leopoldo Bottero dirigente di grandi aziende vicepresidente del fondo per i veneti schiacciare della crisi bentornato Morena Martini sindaco di Rossano Veneto buonasera direttore buonasera sindaco grazie anche a lei Marina Buffoni già assessore a Padova in comune buonasera buonasera a voi Luigi Corò è un cittadino che fa inchieste e che si muove su tanti versanti e spesso scopre notizie e magagne che i giornali si dimenticano avete già visto l'imprenditore di spalle parleremo con lui tra tra pochissimo non tutti se la sentono di comparire non tutti hanno voglia di farsi vedere preferiscono l'anonimato però parlano ed è bene che si sentano le loro le loro voci allora io direi come al solito però partiamo dalla consegna dell'assegno settimanale di Mirella ciao grande famiglia di Lette Veneta oggi siamo al Banco Solidale e facciamo un'altra sorpresa grazie al vostro aiuto a un uomo che è molto ammalato ma tanto tanto ed è una persona guardate incredibile proprio bravo è un ostro veneto e io adesso ve lo presento che è qua eccolo qua si chiama Dino allora Dino da tanti anni tu vieni al Banco Solidale sempre e cosa è successo nella provincia che ci sei in queste conazioni nel 1994 mi hanno trovato un tumore in trachea dopo ho ti sempre tirato avanti nel 2-3 anni fa mi hanno trovato un altro nel polmone mi hanno preso un pezzo di polmone e dopo un anno un altro nella vicina e dopo un altro nel rollo che pensione hai? 445 euro 445 euro e non ce la fai a vita bisogna viva allora io mi sono sentita in dovere e so che ho il vostro consenso il vostro aiuto di aiutare Dino perché non può vivere con questi soldi deve anche curarsi anche se certe medicine le passano però non si può vivere in queste condizioni con 445 euro lui ha anche una famiglia allora Dino guarda la grande famiglia di Rete Veneta ha deciso di darti un aiuto un piccolo sospiro e respiro di sollievo ecco questo è l'assegno ecco qua della grande famiglia di Rete Veneta che ti aiuterà a pagare qualcosina a stare un po' più sereno e io sono convinta che qualcosa succederà qualcosa succederà così sono ridotti i nostri veneti cosa vuoi dire? meno 6 gradi adesso io ringrazio tutti sono molto felice e non so cosa dire non devi dire niente altro ringraziamento è più che sufficiente perché loro capiscono e sanno che i loro sogni vanno a finire bene perché aiutano delle persone in forte difficoltà ciao grande famiglia di Rete Veneta vi saluto perché qui fuori fa proprio tanto tanto freddo anche dentro ma anche qua fuori ma soprattutto è il cuore di Mirella che è molto gelato nel vedere queste situazioni vorrei che i politici si rendessero conto di come vivono i nostri veneti è una vergogna ciao serve a questo la televisione a far raccontare a chi è in condizioni disperate la propria solitudine la propria sofferenza perché altrimenti si è dei fantasmi noi vogliamo portare alla luce queste storie sentiremo poi più tardi una delle vittime di Veneto Banca e delle altre banche che hanno truffato i risparmiatori venite qui raccontateci cosa vi è successo non state chiusi nelle vostre case perché è bene che chi vi ha ridotto in questo stato provi almeno un qualche rimorso vedendovi e sentendo quello che dite allora vi dicevo di un imprenditore che è qui in studio con noi preferisce non mostrarsi in volto e io lo invito comunque a raccontare la sua storia perché è quella che accomuna tanti titolari di azienda partiteiva artigiani insomma imprenditori che non ce l'hanno fatta che si trovano in situazioni terribili allora ci racconti pure la sua storia ma come tanti amici imprenditori fino a circa dieci anni fa si viveva bene poi la crisi giorno dopo giorno chiaramente è aumentata per cui non si riusciva più a pagare il fido il mutuo i prestiti con le banche e giorno dopo giorno chiaramente la situazione peggiorava sempre di più fino a arrivare al punto che non ce la fai più pagare punto dici non pago più d'altronde cosa fai uno che ha famiglia pensa prima i miei figli prima cosa che anche con gli amici si parlava io prima penso ai figli do da mangiare a loro e poi si avanza pago quello che devo pagare solo che la situazione sta degenerando giorno dopo giorno ecco senta quanti figli ha? due ne ho due e che età hanno? uno ha 16 anni e uno ne ha otto cosa cosa è successo con Equitalia? con Equitalia chiaramente non sono stato in grado di pagare non so l'Inps non sono stato in grado di pagare delle multe adesso sto facendo chiaramente grazie anche all'associazione Asimpresa San Marco che mi stanno aiutando e tramite un amico che mi ha presentato queste persone mi hanno detto guarda fermati ne parliamo e vediamo cosa si può fare a quanto ammonta il debito con l'Equitalia mi stanno facendo i conti siamo sui 50 mila euro che già ho detto io non sono in grado di pagare perché chiaramente vado a rubare o continuo a lavorare però chiaramente con il lavoro viene su quello che viene su perché anche io avanzo soldi per cui è tutta quello che è brutto è che è tutta una catena perché poi chiaramente anche io avanzo soldi da altre persone da altri imprenditori che anche loro sono in gravi difficoltà per cui loro non pagano me io non pago gli altri non pago le banche non pago l'Inps purtroppo la situazione è a catena certo la chiamo Franco anche se lei ha un altro nome ci fermiamo qui per ora e poi torniamo da lei certo grazie per il momento Bortolino allora quanti imprenditori avete incrociato ne stiamo incrociando tanti ne stiamo incrociando davvero tanti la cosa che lei ha detto prima il fatto di uscire di casa di venire fuori di parlarne è il primo passo perché il fatto di parlarne non dico che riduca effettivamente il problema ma lo rende quasi un po' più piccolo un po' più sopportabile poi il fatto di condividere con altre persone da forza da coraggio e quindi l'appello che noi facciamo ogni volta ogni volta che troviamo delle persone parlateci chiamateci anche soltanto per ascoltare perché purtroppo manca tantissimo l'ascolto a queste persone soprattutto noi veneti siamo un po' muli lo dico sempre ma quasi con una vena di orgoglio ci chiudiamo dentro i nostri problemi non domandiamo una mano a nessuno anzi spesso non coinvolgiamo neanche direttamente la famiglia questo per una sorta di protezione nei loro confronti e sicuramente per una sorta anche di pudore di timidezza di vergogna dobbiamo assolutamente parlare tra di noi buttarci fuori per due motivi primo essere soli e tremendo in questi momenti il grande la grande sfida è quella di mettersi assieme il grande nemico è la solitudine perché sì c'è la crisi sì questo sistema ci sta schiacciando questo sistema sta schiacciando soprattutto gli imprenditori i micro imprenditori quindi il Veneto perché il nostro tessuto è fatto da micro imprese però se non ci mettiamo assieme se non ci buttiamo fuori il problema è ancora più grande e ogni giorno ogni mattina ci si alza e oggi cosa faccio questo è tremendo mentre se al mattino mi alzo ok chiamo quella persona l'ho conosciuta due giorni fa magari non mi dà una soluzione ma mi ascolta è già un qualcosa che dà una mano poi ci sono degli strumenti ma non ne parlo io ne parlerò poi eventualmente l'amico Alberto Barsotto che legalmente ci danno la possibilità di difenderci dall'aggressione di questo sistema e soprattutto dal fatto che è una cosa è stato innescato un meccanismo per il quale o ne esci con un colpo di reni mettendoti assieme ad altre persone oppure vai sempre più sotto perché poi fai un decreto ingiuntivo avanzi di soldi adesso l'amico avanza tanti soldi ha delle cause aperte ma quanto dura una causa e nel frattempo come vivi e questo è il dramma e questo è il dramma Equitalia arriva in tre giorni se ne ha voglia la giustizia italiana no facciamo che Equitalia passa per la giustizia italiana con gli stessi tempi allora mettiamo una sorta di equità anche se assurda come cosa lo so però è una provocazione allora tantissimi sms continuate a scriverci a proposito della solitudine di cui parlava Bortolin riguardo agli imprenditori ma anche molti anziani e qui c'è una storia che viene da Padova di due coniugi che avevano più di 80 anni che sono stati trovati morti nella loro abitazione vediamo li hanno trovati vicino alla porta di ingresso all'interno della loro casa lui 85 anni lei 84 Michele Perin e Cesarina Pescante da qualche giorno non davano più notizie di loro restava soltanto il loro cane ad abbaiare in giardino cosa può essere successo se i due anziani coniugi abitanti in via Camagno lo stabilirà di preciso l'autopsia dai primi rilievi dei carabinieri sembra che il loro decesso sia imputabile a cause naturali un malore di uno dei due coniugi seguito poi da quello dell'altro complice forse anche il freddo in casa per quello che riguarda noi brevissime persone senz'altro perché ma più di tanto guardi i due sono stati trovati al piano terra della loro abitazione che si trova in una via dove gli storici abitanti arcellani si conoscono tutti increduli i vicini non li ho sentiti ho detto beh a volte non rispondevano subito ma di cosa sono morti li conosceva di vista di vista veniva qua intanto quando aveva bisogno di fare la spesa ma dopo di più ne so disperati la figlia degli signori Perin e il nipote che ancora non sanno darsi pace per quello che è successo ai due anziani servizio di Guido Barbato allora Mirella tu ne hai viste tantissime di queste coppie di queste situazioni purtroppo il problema è che il vicino si accorge sempre troppo tardi non si capisce il perché però poveretti sono soli là il problema grande vedete anche la figlia però arrivano sempre dopo invece questi anziani quando sono così soli con una certa età i familiari o chi per essi dovrebbero far visita tutti i giorni due o tre volte al giorno se non sono in grado loro devono mandare qualcuno perché questi anziani sono a rischio non si sa di cosa ma sono a rischio allora siccome che abbiamo ormai ogni anno ogni mese ogni inverno queste situazioni drammatiche io invito veramente tutti i familiari se non riescono loro per motivi di lavoro per motivi familiari di mandare qualche vicino con le chiavi qualcuno a controllare queste situazioni perché queste cose sono inaudite sono inaudite perché nessuno si prevede e quanti anziani abbiamo in queste condizioni quanti ce ne sono nelle case che non vedono figli da tanto tempo che non vedono nessuno metti anche che sono bruschi loro di carattere quello che vuoi ma vanno monitorati è una vita che chiede un censimento degli anziani per vedere come vivono dove vivono e chi hanno vicino ma nessuno lo fa nessuno lo fa e ogni anno ci ritroviamo in queste situazioni ogni mese ogni estate non c'è solo l'inverno c'è anche l'estate eppure succede tutti e due da cosa sono morti da cosa sono morti però sono morti tutti e due non ne vai fuori finché non ci rendiamo conto che diventeremo tutti così e che abbiamo bisogno di assistenza giornaliera non ne andiamo fuori non c'è niente inutile andare parliamo solo di aria fritta e allora continuiamo con queste situazioni drammate mi fanno togliere il fiato sta roba qua perché io poi li vedo quando vengono al banco solidale e dico dove vai a casa chi hai nessuno quando ci vediamo la prossima settimana allora gli do il numero dei servizi sociali gli do il numero del vice sindaco chiama il mio numero chiama mi sei bisogno chiama mi ti prego non hanno ci sono persone anziane che non hanno nessuno e i servizi sociali non sanno che esistono spiegatemi voi com'è sta situazione questa è la verità però che ve la posso garantire se in Italia ci fosse la guerra i profughi andassero con i barconi in Africa come verrebbero accolti nei paesi islamici c'è un uomo che aveva investito quanto aveva ricevuto dall'assicurazione dopo un gravissimo incidente occorso nel 2001 e uno in Veneto Banca purtroppo ha perso tutto e adesso è tetraplegico e non può ovviamente pagare l'assistenza di cui ha bisogno lo ha intervistato la nostra collega Tiziana Bolognani Daniele è uno dei risparmiatori truffati di Veneto Banca 53 anni di Ponte di Piave è tetraplegico ma non dalla nascita bensì dal 2001 dopo un grave incidente stradale io necessito di assistenza continua perché non riesco sia dai bisogni essenziali come bere un bicchiere d'acqua che da quelli fisiologici ed è un'assistenza molto costosa ma i soldi non ci sono quelli ottenuti dal risarcimento dell'incidente li ha persi tutti in Veneto Banca io ho perso una buona parte dei miei risparmi la parte più consistente dei miei risparmi erano stati investiti in azioni perché praticamente era l'unica forma di investimento che Veneto Banca proponeva una storia la sua che suscita commozione e rabbia con Daniele che giudica un'offese al misero ristoro proposto dalle banche ritengo che la proposta che ci ha fatto Veneto Banca sia irrisoria ecco perché un 15% a ristoro di quello che abbiamo perso è quasi l'elargizione di una carità carità elargita oltretutto in un gruviglio di note e troppo poca chiarezza in ben 26 pagine soggiunge quindi non è un'offerta transattiva chiaramente comprensibile noi rischiamo di andare a firmare dei documenti che possono poi ritorcersi contro noi stessi come abbiamo fatto in fiducia in passato poi sentiremo ancora una parte di questa intervista di Tiziana Bolognani Deopodo Bottero questo è il dramma dei risparmiatori tra l'altro uno è stato scotato all'acqua carda ha paura anche di quei affredano quindi lui diceva firmato i documenti in fiducia adesso mi dicono che è giusto così ma non non firmo volentieri niente e una banca quando non ha la fiducia non ha più niente perché la banca lavora con i soldi degli altri tutti sanno che se tutti i risparmiatori andassero a ritirare i soldi di qualsiasi banca la banca chiude quindi se non ha la fiducia la banca non esiste quindi il patrimonio della banca i soldi tutto quello che ci va dietro ma anche la fiducia la correttezza delle persone la serietà eccetera e mi pare che qui abbiamo veramente sperperato tanto sperperato tanto c'era una fiducia quasi etnica nelle nostre banche tutti avevano quattro azioni della banca locale adesso uno dice ma magari è meglio Paribas Deutsche Bank che poi alla fine è la stessa cosa direi che c'è un problema di fondo sentivo dei dibattiti in questi giorni alla radio perché ero in giro per il mondo l'economia l'economia con un eccesso di liberismo cos'è che succede se non ci sono le regole l'economia è come la caccia cioè il leone mangia tutti quello più grosso mangia tutti adesso lo vediamo anche negli affari di bosca che ci sono in Italia vanno fatte delle regole per regolare l'economia e soprattutto deve essere chiaro che l'investitore che crede di aver investito una certa cosa deve essere salvaguardato oppure gli va detto subito guarda che tu non stai investendo in buoni dello Stato stai investendo in un capitale di rischio magari ti va anche tanto bene magari no mancano queste regole qua io come si dice che ogni tanto vado in banca e faccio un investimento di un fondo e si affirma il MIFID 60 pagine io onestamente mi sono messo una volta a leggerla e quello della banca dice guarda che noi le chiudiamo poi a una certa ora però dico 60 pagine per capire cosa sta succedendo ma vi assicuro che io me ne intendo di queste cose che ho capito fin là insomma quello che volevano dire ho capito fin là io direi se io mi fido c'è un fondo serio è serio questo fondo dimmelo te insomma è come quando uno una volta andava a bottega adesso ai supermercati è diverso dalla bottega diceva si fidava del commerciante che diceva adesso uno va in banca una volta andava al banchiere che è tutto sommato un compagno diceva una roba buona su 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 fa azioni buonissime dopo invece aveva il peo per dentro cosa bisogna fare abbiamo un'economia che va a rotoli anche abbiamo sentito per mancanza di liquidità abbiamo ancora chi ha dei risparmi mi piacerebbe poter mettere qualche risparmio in fondi che lavorassero con l'imprenditoria locale sono stacco che mi si propongono i fondi Far East Cina Messico l'America tutti questi paesi qua bellissimi un fondo nord-est io l'ho proposto mi ricordo dalle banche dieci anni fa in un periodo che ho fatto l'assessore ho scritto ma perché non fate un fondo nord-est cioè i nostri imprenditori che hanno bisogno di soldi fino a un certo punto possono reggere il prestito poi hanno bisogno di capitale di rischio fate un bond come si dice o capitale di rischio una società come volete ma investito qui e devo dire che nessuna delle banche neanche quelle cooperative ha fatto questa operazione qua che mi risulti sto sentendo dei rumor adesso voglio informarmi meglio ma non ho visto nessuna proposta che dice questi soldi vengono investiti nel nord-est nelle aziende del nord-est che non sarebbe una cattiva idea anche dal punto di vista di trattenere qua i soldi perché io sapete sono indipendentista quindi sono per trattenere qua i 21 miliardi che mai noi fa però anche il risparmio si potrebbe trattenere qua con degli strumenti di questo tipo allora 30% della popolazione è sulla soglia di povertà un dato davvero spaventoso aumentano i poveri l'8% è nella povertà e non è in grado di procurarsi il cibo sono 5 milioni più o meno e poi a Bassano ovviamente anche nel Bassanese aumentano i poveri sentiamo cosa dice un assistente sociale sono soprattutto famiglie italiane che vengono seguiti dai servizi sociali identikit dei nuovi poveri non bisogna andare a cercarli in giro per il mondo no perché abitano qui sono in mezzo a noi siamo noi in dieci anni l'indigenza assoluta in Italia è più che raddoppiata e il Veneto non fa eccezione a Bassano uno dei fulcri dell'economia del business del commercio del nord est sempre più famiglie si rivolgono ai servizi sociali persone che sono come dire che sono nel territorio vivono nel territorio da sempre e che purtroppo a causa della crisi economica escono da una situazione di benessere o comunque che gli permetteva di arrivare a fine mese tranquillamente si trova in una dimensione in cui veramente non sanno dove girarsi per arrivare ad assolvere alle incombenze economiche quotidiane i nuovi poveri hanno la faccia degli italiani dei giovani dei disoccupati il welfare sembra poco adatto a rispondere alle nuove forme di difficoltà economica anche perché solo una piccola parte della spesa sociale viene destinata alle vittime della crisi insomma mentre l'orchestra della politica sul Titanic suona il violino della ripresa il paese intanto a quanto pare affonda se fino a qualche anno fa si parlava di persone che potrebbero essersi per alcuni mesi possiamo passare anche un paio d'anni ecco comunque per un tempo limitato a meno che non fossero situazioni effettivamente fragili con problematiche che andassero oltre la questione economica adesso sappiamo le persone che avvengono da noi ma finché non trovano un lavoro sappiamo che saranno appoggiate a noi quindi non sappiamo fino a quando dovremo sostenerle non si vede la fine del tunnel non si vede la fine del tunnel per il momento per vista di Carlo Alberto Inghilleri sindaco i sindaci sono in prima linea e vedono davanti ai loro uffici spesso famiglie uomini e donne che chiedono un aiuto ma è quello che dice la collega l'assessore ai servizi sociali del comune di Bassano succede purtroppo in tutti i comuni ma basta guardare il banco dove opera l'associazione di Mirella e di Leopoldo per capire che non ci sono solo gli extracomunitari che vanno al banco alimentare e io ricordo una decina d'anni fa prestavo il mio servizio in Croce Rossa e in Croce Rossa una sezione della Croce Rossa si occupava e si occupa tuttora di aiutare con un assegno con un piccolo assegno alimentare le famiglie in crisi già allora cominciavano ad arrivare moltissime famiglie italiane il problema è quello legato giustamente al lavoro fin tanto che non c'è un lavoro uno stipendio fisso che entra in casa mangiare si deve mangiare le bollette si devono pagare quindi la porta a cui si bussa è quella del sindaco o dei centri di assistenza la Caritas il comune la Croce Rossa associazioni di volontariato associazioni che possono in qualche modo portare un attimo di conforto non è solo il problema degli extracomunitari paradossalmente quelli che dovevano tornare tantissimi non tutti quelli che vorremmo però insomma una grossa parte è tornata ai paesi d'origine è capitato anche da noi a Rossano quattro famiglie sono tornate ai paesi d'origine ma nel momento in cui sono qua da tanti anni hanno i figli che hanno iniziato le scuole qua e fan fatica poi a tornare a casa il problema di quelli che sono arrivati adesso che è un problema che sembra che nessuno voglia risolvere ma lo stato di necessità delle nuove famiglie italiane della nuova povertà esiste io volevo dire due cose riguardo anche soprattutto alle banche vede il direttore quando una donna fa meretricio del proprio corpo lo vende alle strade o negli appartamenti viene chiamata prostituta allora qui i bancari i banchieri dobbiamo chiamarli con il loro nome sono stati dei ladri dei ladri ma dei ladri senza vergogna io lei lo sa sfondo una porta aperta prima di tutto non ci sono banche migliori delle altre tutte le banche sono uguali e le banche vendono soldi il casolino dove si andava a prendere il formaggio vende il formaggio mio papà ha sempre venduto ombre perché aveva una piccola osteria quindi potevano un cliente di Rossano poteva scegliere andare a bere il vino buono il vino cattivo da un'altra parte e sceglieva ma io in banca vado a comprare del denaro e siccome il denaro non ha una qualità vado dove il denaro mi costa meno prima di tutto oppure vado dove ho la fiducia del direttore perché conosco perché era il mio vicino di casa perché era tosato del paese perché già ecco teniamo anche conto di un'altra cosa perché io ce l'ho ancora a morte con chi dice che i politici fanno parte della casta io vengo eletta dai cittadini che scelgono se eleggere me o eleggere un altro tra l'altro io ho anche faticato sono stata eletta dopo tre volte quindi ce l'ho avuta dura prima di diventare sindaco quindi nessun può dire niente il 90% di chi lavora in banca è un raccomandato allora mi devono dire anche mi devono dire anche perché è il figlio di se tanti figli di direttori io vorrei vedere quanti figli di direttori di banca lavorano in banca quanti figli di hanno trovato il posto in banca magari adesso c'è un po' di magari adesso c'è un po' di vergogna però fino a pochi anni fa per entrare in banca dovevi essere accomandato quindi non mi dite niente non fermatemi mai perché la mia più grande soddisfazione sarà un gioco naturalmente poi perché so che c'è un signore di Rossano che mi segue che ha la figlia che lavora in banca che invece è lì perché è stata brava ha vinto i concorsi ma un 10% diciamo che il 90% è così io vorrei io vorrei la proposta che faccio io ai direttori ai mega il CDA è questa io vorrei che voi trattate i vostri clienti sia quelli che hanno i soldi che non ve li lasciano perché vi lasciano i soldi ma soprattutto quelli che hanno i debiti con voi che i debiti vengono pagati il 100% di quello che voi prestate un mutuo di 200.000 euro in 20 anni quanto glielo pago gli do 80.000 euro in più se me va bene dipende ecco quindi io ve li pago quindi i soldi li prendete da chi i soldi non ce li ha io vorrei che voi trattaste i vostri clienti come siete trattati voi dalla vostra banca alle stesse condizioni che avete voi perché uno che lavora in banca allo sportello ha delle condizioni sicuramente diverse dalle mie e perché io che sono il tuo cliente devo essere trattato peggio di te uno due questi qua della banca popolare io per fortuna non ho azioni sono una donna fortunata che sono povera non ho azioni né nelle banche attuali quelle che sono né nella popolare di Vicenza neanche in Veneto Banca ma chi ha avuto le azioni nella banca popolare di Vicenza in Veneto Banca la pensionata che ha investito il TFR questo signore trettaplegico che sperava di poter andare avanti nella sua vita con i soldi che ha investito nelle azioni ma deve diventare un simbolo lo devono portare sotto la casa del mega direttore e lasciarlo lì quando questo viene fuori di casa se lo deve trovare davanti e io ho il diritto di sapere a chi hanno prestato soldi e chi li ha fatti andare in rovina così perché non sono stati i soldi del mio mutuo che li hanno fatti andare in rovina sono stati i milioni di euro che hanno prestato agli amici degli amici ai quali hanno assunto anche i figli in banca che poi non li erano ritornati quindi sono ladri truffatori e meritano se è vero che c'è la legge e il contrapasso devono essere immersi nell'inferno immersi nell'oro bollente ecco io ho la soddisfazione di vederli tutti come in America quelli con gli scatoloni tutti fuori e non salvo nessuno perché non ci credo che chi era lì non sapeva tutti sapevano qualcosa e nessuno ha avuto il coraggio di fermare questa tragedia in mane prima stanno scendo le liste dei grandi debitori in questi giorni che hanno ricevuto appunto presti 20-25 milioni e non hanno restituito ma capito allora a proposito di banche sentiamo di nuovo l'avvocato Andrea Arman che era qua in studio l'altra sera vediamo cosa ha detto oggi ai nostri microfoni per la prima volta i vertici dirigenziali delle due banche venete Fabrizio Viola per la Popolare di Vicenza e Cristiano Carrus per Veneto Banca sono andati di persona adese nel veneziano a incontrare le 14 associazioni dei risparmiatori truffati nella speranza di tornare a casa con una risposta all'offerta di transazione avanzata come racconta da Trevise il legale del coordinamento Don Enrico Torta e ci hanno portato a conoscenza che le banche hanno a disposizione 30 milioni cada una per affrontare i casi umani più difficili con i risparmiatori che stavolta hanno preso in contropiede due amministratori delegati delle rispettive banche dicendo banca voi non siete capaci di farne la banca la rivoliamo noi come risparmiatori ridateci indietro queste banche che vi siete presi con operazioni di dubbia a mio avviso legalità noi risparmiatori siamo pronti a riprenderci le banche i 220 mila risparmiatori da truffati diverrebbero i nuovi banchieri acquisendo la proprietà del Fondo Atlante rappresentiamo in l'una e l'altra banca il 2% qualcosa in Veneto l'1% scarso in Vicenza dobbiamo superare il 51% per superare il 51% ci deve essere qualcuno che ce lo dà noi chiediamo al Fondo Atlante in questo momento già che è in profondissima crisi e senza il nostro appoggio difficilmente riuscirà a ricostituire la fiducia sul territorio ridacci indietro alle banche e la riscossa dei risparmiatori che boccano la transazione avanzata dagli istituti di credito i veneti non accettano l'elemosina e io chiedo a tutti quanti i soci di non aderire a questa offerta che è una offerta scandalosa e inaccettabile è un'offesa per la dignità del popolo veneto intervista di Anna Maria Parisi allora torniamo da Franco l'imprenditore che è qui in studio che ci racconta la sua storia una catena di disavventure di errori di problemi che l'ha portato sull'astrico e adesso deve equitare a 50 mila euro senta Franco allora con le banche che rapporto ha avuto che cosa è successo con le banche con le banche credo come tutti ho un mutuo avevo dei fidi bancari per l'attività che chiaramente oggi in questo momento non sto pagando perché chiaramente ho delle difficoltà enormi ho fatto anche una battuta e voglio anche così un po' perché per carattere io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno ma è quello vuoto mezzo vuoto e gli ho detto al direttore della banca guarda il mio mutuo visto che ormai il Monte Paschi di Siena ne ha combinato di tutti i colori fatelo pagare da loro lui mi ha guardato si è messo a ridere e mi ha detto stai scherzando no 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 perché tanto qui non c'è più niente da fare per cui fatelo pagare da loro la situazione chiaramente adesso io faccio la battuta ecco quello che io voglio dire ma lo voglio dire anche a tutti gli amici perché io sto dando una mano a altri imprenditori amici eccetera perché gli sto dicendo perché tanti mi dicono ma tanto non ne vale la pena non ce la fanno tanto mi massacrano mi porteranno via la casa ecco la cosa che io sto cercando di fare proprio perché sono anche abbastanza arrabbiato sto dicendo a tutte queste persone non è vero che non ne vale la pena ne vale la pena se ci uniamo io lo sto dicendo a tutti abbandoniamo l'egoismo ed abbracciamo l'altruismo cioè cerchiamo di unirci insieme sicuramente faremo qualcosa ripeto io ho avuto la fortuna di conoscere una persona che mi ha presentato l'associazione la simpresa San Marco io sto portando altri amici li sto presentando come vedete c'è l'anonimato per cui c'è non viene sbandelato niente a nessuno cioè io sto dicendo a tutti uniamoci per un'unica causa perché ci dobbiamo salvare non è che noi siamo dei delinquenti che siamo andati in banca abbiamo rubato abbiamo è sempre gente che ha lavorato la cosa poi che mi fa male perché poi io vedo amici che non so vanno a rovistare nei vasi delle immondizie perché non hanno veramente da mangiare neanch'io non ne ho eppure gli sto dando una mano cioè io ho detto assieme cerchiamo di fare qualcosa ci sono persone capaci brave che hanno un cuore che vogliono fare qualcosa di concreto ci diamo una mano perché anch'io ho bisogno di una mano me la stanno dando cerco di anch'io di dare una mano a chi ne ha bisogno visto che ho avuto la fortuna di avere delle persone che mi aiutano grazie Franco poi torniamo da lei ovviamente di nuovo emergenza freddo davvero un freddo polare in questi giorni tantissime persone che dormano all'aperto che rischiano l'assideramento e alla stazione di Mestre hanno deciso che in questi casi diventa un po' un dormitorio di aumentare i posti vediamo il servizio della nostra redazione di Venezia noi abbiamo chiesta evidentemente se fosse aperta sarebbe meglio su quello che però a noi interessa è non alimentare polemiche solo politiche il freddo glaciale senza tetto le proteste dei no global e il contrattacco del comune temperatura sotto zero ma polemica bollente ieri sera il primo round che potrebbe essere replicato no global attivisti dei centri sociali e coordinamento degli studenti medi in azione con striscioni e sit-in per lasciare aperta la stazione ferroviaria di Mestre al grido di nessuno al gelo il perché è presto detto grandi stazioni la società di servizi del gruppo ferrovie italiane stavolta ha detto no scali chiusi dall'una alle cinque di notte anche in questo periodo di grande freddo quando negli anni scorsi restavano aperte le sale per garantire un posto caldo ai clochard motivazione sicurezza tanto più in periodo di allerta terrorismo ma dopo il blitz dei no global arriva all'affondo del comune e invito anche i no global visto che occupano strutture pubbliche grandi e molto vaste di ospitarli per centri sociali visto che possono aprire le loro porte e accoglierli in un posto caldo nel merino proprio i manifestanti perché attacca Venturini il comune quest'anno sta facendo moltissimo per l'emergenza portando i posti letto a 34 unità fisse di accoglienza invernale per senza dimora che si sono estese fino a 45 posti in queste notti di particolare gelo presso la casa dell'ospitalità insomma nessuno resta veramente al freddo come accadeva negli anni scorsi e il centro sociale rivolta continua l'assessore strumentalizza la situazione perché ha perso l'appalto per la gestione dell'accoglienza dei senza tetto andata alla casa dell'ospitalità l'emergenza comunque resta palpabile anche fra i cittadini divisi sulla necessità o meno di tenere aperta la stazione non ha senso chiudere cioè il Papa ha aperto i locali della gendarmeria vaticana per permettere a questa gente di sopravvivere io avrei tenuto aperto bisogna tenere aperto questi qua muoiono di freddo ci sono già delle comunità che aiutano i poveri cioè non è questione di lasciare aperto per non bisogna dargli un'opportunità di vivere dignitosamente dormire dignitosamente anche a questa gente intorno alla zona della stazione è diventato invidibile fanno bene anche se in questo caso significa lasciare fuori senza tetto beh potranno metterli da qualche parte eventualmente servizio di Nicola Zanetti Mirella il buon senso dei cittadini ci dimostra avete sentito cosa hanno detto apriamo accogliamoli mettiamoli al caldo questo vuole il cittadino il cittadino vuole vedere anche se è un barbone vederlo al freddo fuori a morire dal freddo gli porta i coverti qui già morti cioè non mi capisco e questi stai portarai i piumini in questa estate e stai le mobili dopo che animai more cioè gaviamo tutto e non gaviamo niente cioè dopo sempre dopo ma cosa sia sta roba cioè si sa che viene l'inverno che andiamo sotto zero tanto poco ma si sa non c'è emergenza cioè non che ne frega niente degli ultimi gli ultimi gavano a morire tutti specialmente poi si è senza tetto barboni tutto ma se chi more chi se ne frega cioè i treni tagliano volte nel vero ocio che risalta pararia e dopo che abbiamo i terroristi che scorassa da un stato all'altro ma chi va remengono tu l'hai sempre detto dell'emergenza fredda ma l'emergenza ma va fatta a settembre l'emergenza fredda non va fatta a gennaio le staglie mobili esiste da quanto e le porta quando quando che si è morti gli animali che non ti arrivi neanche a fare le strade immobili da neve il gelo che si è strade impraticabili ma non vedete che ci stanno prendendo non lo dico perché non posso Mirella Mirella per i fondelli ecco bravo direttore come le voglio bene direttore per i fondelli ci stanno prendendo per i fondelli e il problema è se chi si è soldi nostri cioè tra in Italia chi si è che vi è impagato chi si sta messa là eh ma c'è roba da pazzi vedi da sta gente sti anziani che morono e sarà scelta anche di vita ma come si fa a morire una persona dal freddo nel 2017 con quello che abbiamo ma dai Gabriele Donatella abita a Zellarino conosce anche così le zone in cui c'è disagio degrado purtroppo io giro i quartieri alle volte in bicicletta alle volte con il pullman e mi ha colpito fortemente credo ieri l'altro sera alla tv quando ho visto Alessandro un disabile che con 280 euro lui è obbligato a vivere in macchina non mi ricordo il paese dove vive credo verso la Lombardia o verso Rovigo adesso non mi ricordo quando vediamo no queste persone che arrivano perché dicono che sono che scappano dalla guerra però vediamo solamente gente di 20 anni che sta meglio di noi fisicamente dopo materialmente questo non lo posso sapere però allo stesso tempo abbiamo avuto un governo per anni ed è stato credo il peggiore dal dopoguerra che ha pensato solo per queste persone mentre gli italiani abbiamo visto anche a Nola non c'è buttati per terra sul pavimento con le coperte perché non c'è il letto non c'è la branda fortunatamente la ministra si è svegliato e ha detto no ma loro sono bravi medici e paramedici ma la colpa è sua di lei perché è lei la responsabile e io glielo dico per l'ennesima volta se ne deve andare a casa questa signora perché è un incapace sulla sanità sta facendo solo l'interesse delle lobby delle farmaceutiche e di altro ma per il popolo questa signora Lorenzin è stata messa là da letta se non vado erato oltretutto non è neanche laureata in medicina o altro non ha master non ha nulla ma che cosa fa lì questa signora ha distrutto la sanità perché qua stiamo pagando tutto dice Zaya dice che abbiamo la sanità migliore in tutta Italia io credo che non sia mica poi tanto così la voce della sanità in Italia nel Veneto perché io sto vedendo che stiamo pagando tutto e se vuoi una visita devi aspettare dagli 8 ai 12 ai 15 ai 18 mesi però non dicono che se uno ha bisogno di una di una visita e che sono passati i 60 giorni può andare da qualsiasi privato e fare quello che è necessario di fare e paga solo il ticket questo non lo dicono però arrivano questi signori che hanno tutto allora Alessandro vive in macchina da 3 o 4 mesi io questo non lo trovo veramente disgustevole lo trovo direttore secondo lei questi banchieri hanno rimorso non credo Mirko Davilaverla rimorso sti qua no penso anch'io che non provino grandi rimorso però almeno che vedano che vedano quello che hanno combattuto che vedano in faccia che hanno io penso che hanno già cambiato canale forse dall'estero si possono vedere in streaming allora prima di andare dall'assessore Marina Buffoni Idax Assessore vediamo ancora un brano dell'intervista al paraplegico che non può pagarsi l'assistenza perché ha investito tutto in Veneto Banca e ha perso e ha perso tutto vediamo un'intervista esclusiva di Tiziana Bolognani Daniele lei ha avuto una bruttissima esperienza con Veneto Banca ed è un'esperienza che l'ha segnata sì la genesi di tutto questo risale il 2001 quando io ho fatto un grave incidente stradale che mi ha reso tetraplegico ovvero completamente paralizzato dal collo in giù quindi io ho necessito di assistenza continua perché non riesco sia dai bisogni essenziali come bere un bicchiere d'acqua che a quelli fisiologici ed è un'assistenza molto costosa fortunatamente nell'incidente avevo ragione per cui ho avuto un ristoro da parte dell'assicurazione è un ristoro che io ho depositato in Veneto Banca come qualunque altro risparmiatore in quanto era la banca del territorio era la banca che diciamo in quel momento dava maggiori sicurezze perlomeno a livello esteriore dava le maggiori sicurezze che cosa è successo a un certo punto i vertici della banca hanno cominciato probabilmente a operare in maniera scorretta anzi ormai è appurato che hanno fatto delle operazioni che erano scorrette e non erano legali e la banca ha cominciato ad andare male noi non siamo stati avvisati di tutto questo nonostante le varie ispezioni e i controlli che la banca subiva ci veniva detto che tutto era a posto tutto era in ordine i conti erano la banca era solida finanziariamente e invece poi siamo arrivati all'epilogo finale dove si è visto dove i risultati si sono visti io ho perso una buona parte dei miei risparmi la parte più consistente dei miei risparmi erano stati investiti in azioni perché praticamente era l'unica forma di investimento che Veneto Banca proponeva come la forma di investimento più conveniente più sicura ed essendo una banca cooperativa la banca del territorio noi ci credevamo adesso Veneto Banca con Banca Popolare di Vicenza hanno prospettato presentato questa proposta di indennizzo che ha i propri soci e dentro due mesi uno deve dichiarare la propria adesione lei che cosa intende fare? Innanzitutto io ritengo che la proposta che ci ha fatto Veneto Banca sia irrisoria ecco perché un 15% a ristoro di quello che abbiamo perso è quasi l'elargizione di una carità io mi sono anche rivolto ad un legale assieme a molte altre persone che assiste anche molte altre persone come me e vedremo come comportarci la cosa che più comunque la cosa che più salda all'occhio è che Veneto Banca per offrirci questa transazione ce la offre attraverso un regolamento di 26 pagine quindi non è un'offerta transattiva chiaramente comprensibile noi rischiamo di andare a firmare dei documenti che possono poi ritorcersi contro noi stessi come abbiamo fatto in fiducia in passato quindi lei in questo momento si fida si è affidato al suo avvocato al suo legale e entro questi due mesi insieme dovrete decidere quali sono i passi da fare effettivamente noi decideremo insieme i passi che sono da fare il fatto stesso che la banca voglia che vi aderisca l'80% secondo noi è una è una scelta che va un po' contro quello che può essere la continuità stessa della banca cioè sembra quasi che si voglia ripulire la banca per poi magari rivenderla a chissà qual è altro grosso gruppo quindi perdere anche la banca del territorio oltre ai risparmi perderemo anche il valore che aveva la banca del territorio e su quel risarcimento dell'assicurazione a seguito dell'incidente contava evidentemente sì quel risarcimento come ho detto io ho bisogno di assistenza continua quindi il la mia vita costa costa ogni giorno io a un certo costo assistermi a un certo costo io contavo su quel risarcimento anche per poter continuare ad avere una qualità di vita discreta anche per gli anni che mi mancano grazie molte a Daniele Furlani intervistato a Ponte di Piave da Tiziana Bolognani assessore a Padova se vuole anche a Padova come in altre città credo che in questo momento la difesa del cittadino la difesa sociale del cittadino la tutela dei non tutelati sia il tema al quale il governo in primis e le amministrazioni locali mi scusi c'è un problema con il microfono per cui le ridò la parola tra pochissimo dicevo che in questo momento dobbiamo fermarsi perché non la si sente no no torniamo adesso glielo sistemiamo glielo sistemiamo allora andiamo dal dal dottor Marsotto della Dias Impresa San Marco abbiamo sentito prima Bortolin il presidente e anche l'imprenditore che si è proposto di lasciare la sua importante testimonianza vede direttore tante volte per non dire sempre fondamentalmente il veneto di carattere è un è orgoglioso no non deve non deve mettere sul piatto magari anche di una situazione in massima riservatezza di un professionista di un pool di professionisti i propri problemi per cui fondamentalmente a scapito di non andare a ricontare magari quelle che è una sfortuna nella vita è andata male l'impresa gli avutatori spari il lavoro è successa una disgrazia familiare o di salute per cui da una situazione abbastanza discreta o buona in cui poteva navigare economicamente si è trovato nel baratro e questo ovviamente di queste cose il fisco l'equitalia l'agenzia entrate le banche stesse non è che abbiano un aspetto sentimentale una spera di literosia nell'agire vanno anzi ne approfittano perché la situazione dell'impresa decotta o il privato che si trova in difficoltà è un pesciolino molto appetibile molto meglio di quelli che si sanno difendere e che si sanno ovviamente barcamenare allora l'appello che io come consigliere e componente di Assi Impresa a ruota mi unisco al nostro caro presidente è quello veramente di fare aggregazione di fare rete questa legge che anche il terraspettatore indica qual è sostanzialmente cioè è una legge che compie qua in gennaio compie il primo lustro di età quindi non è vecchissimo ma neanche proprio recente e parlando con colleghi anche della vicina Lombardia eccetera veramente c'è una ritrosia c'è un'essere istia ad applicare questa legge intanto perché sa comporta un certo sacrificio direttore non economico di fare sue carte di andare in cerca però io l'appello che dico ai nostri amici veneti ma non solo anche a tutti gli imprenditori consumatori privati in difficoltà facciamoci uno sforzo di perdere due o tre giorni una settimana dieci giorni ma questo può salvarci veramente la barca e la camicia fondamentalmente anche siccome tante volte è chiamata anche legge salva o anti suicidi è una parola un parolone un po' grosso sa la gente dice ma mi vado a svergognare a metterli in piazza anche se era un professionista in camera Caritazzi dentro quattro mura legge anti suicidi io non sono arrivato a questo ma non fermiamoci sull'etichetta su quello che è l'acronimo non è assolutamente vero è una legge che veramente il legislatore italiano quindi non veneto italiano ogni tanto fa qualcosa di buono italiano all'epoca qual è la razza di questa legge è quella di rimettere in linea tirare una linea col passato situazioni economiche dell'impresa equità veramente di dare uno stralcio ovviamente sono i requisiti e la verifica del professionista è questa con tutte le carte di vedere di portare una famiglia una impresa alla dignità di un tempo ovviamente con quello che può perché se prima signori aveva un reddito di 100 e ha contratto debiti il passo in base alla gamma si dice di 70 poteva farcela adesso i debiti sono rimasti di 70 forse sono andati anche a 75 ma il reddito con la crisi è andato a 40 a 30 allora qual è lo spirito e la funzione di questa legge è quello di praticamente d'accordo il giudice omologa verifica gli incartamenti presentati dal professionista per il tramite che aiuta e assiste questo indebitato di vedere se c'è la possibilità e molte volte il 95% dei casi c'è di riportare il livello dei debiti a quella che è la reale contingentata adesso attuale capacità di pagarli di sostenerli dell'indebitato per cui se adesso l'indebitato fondamentalmente tolte le spese per vivere per sé per la famiglia magari per la nonna o la mamma disabile che ha a casa resta 40 tolto il vivere e il debito sarebbe di 300 praticamente il giudice rimodula il debito tutto è equitalia commerciale banche ai 40 che ha a disposizione tolto quello che gli serve per vivere questa è la sostanza di questa legge per cui portate queste carte chiamate numerose perché delle volte uno sforzo di una settimana 10 giorni accompagniamo anche noi a ricercare in banca le carte l'equitalia si temono proprio dalla A alla Z perfetto questa legge di cui si è parlato pochissimo ma che loro stanno facendo riaffiorare qualcuno se l'è presa con Monti responsabile di aver tassato i piccoli depositi oltre i 5 mila euro torniamo dall'assessore si che abbiamo cambiato le batterie Padovano perché c'era un problema con il suo microfono Marina Buffoni allora dicevamo si dicevo che in questo momento la difesa dei nostri concittadini la difesa sociale ma soprattutto la tutela dei non tutelati è il tema al quale le amministrazioni locali ma soprattutto il governo dovrebbe impegnarsi proprio su questo io parlo di creare dei percorsi che rispondano davvero alle esigenze reali degli italiani perché i 20 miliardi che Padovano ha messo a disposizione per salvare MPS e le altre banche francamente a me fa anche un po' schifo soprattutto sentendo che poi gli italiani onesti le persone oneste che purtroppo si sono fatte truffare dalle banche perché c'è chi ci è caduto con una truffa affidandosi ma c'è anche chi ha chiesto un affidamento per poter fare un investimento per poter allargare l'azienda per poter produrre di più e si sono sentiti dire io l'affidamento il mutuo te lo do se tu sottoscrivi e acquisti questo tot numero di azioni ecco allora su questo che dobbiamo porci davvero dei problemi oltretutto un anno fa io appartengo a Fratelli d'Italia un anno fa Giorgia Meloni ha depositato in Parlamento una proposta di legge che chiedeva al Parlamento di poter istituire una commissione di inchiesta per andare finalmente a fondo e poter capire quali sono le responsabilità penali di chi ha truffato gli onesti cittadini benissimo siamo passati come i soliti che dicono le solite panzane l'altro giorno però il PD invece presenta una mozione in Parlamento che obbliga il PD chissà quando chissà come e chissà con quali strumenti di mettere in piedi una commissione di inchiesta ma qui lo possiamo dire tranquillamente che nessuno pagherà penalmente neanche un giorno neanche verrà commutata in pena amministrativa e poi abbiamo invece i nostri piccoli imprenditori perché parlo della difesa dei non tutelati dei nostri concittadini perché colpisce tutte le fasce della nostra società colpisce la partita IVA colpisce il giornalaio il medio imprenditore il piccolo imprenditore i pensionati gli studenti le casalinghe allora io non sarei così arrabbiata se la prefettura se 90 milioni di euro fossero destinati anche a chi vive con 280 euro di pensione di invalidità come abbiamo sentito prima quando invece la prefettura di Padova ha messo a disposizione 90 milioni di euro per questa accoglienza e io lo chiamo buonismo peloso degli accogliamo tutti che mica li vogliono accogliere per far contenti questi ragazzotti che diceva lei proprio prima parlava questi ragazzotti che poi sono giovani in età da lavoro che arrivano a migliaia con i barconi io questa non la chiamo scappare da una guerra anche perché mi pare francamente che in costa d'Avorio ancora non ci sia nessuna guerra ecco questa è una vera e propria invasione perché parliamo di ragazzi in età dei maschi in età da lavoro tra l'altro apro e chiuso velocemente una parentesi se fosse un maschio e scappassi dalle guerre nel mio paese come minimo mi porterei dietro anche mia madre e mia sorella e non la lascerei lì sotto le bombe la realtà è che invece non scappano assolutamente da nessuna guerra ma invece c'è un disegno calcolato che l'Italia deve essere invasa da queste persone che poi dicevo non è che questa accoglienza così questo buonismo peloso viene fatto per far contenti loro no lo viene fatto per ingrassare le tasche delle cooperative perché è una battaglia anche che io sto facendo e poi ritorno subito sull'argomento direttore una battaglia che sto facendo è che non mi domando come mai queste cooperative in due anni aumentano del 100 volte il loro fatturato oltretutto senza neanche avere l'obbligo di presentare le pezze giustificative per poter dire io mi date 35 euro al giorno per queste persone ne ho spese 35 no loro ne prendono 35 ne spendono 10 e tutto il resto è utile eso in tasse e chiudo tornando alla difesa del cittadino io me ne sono occupata nel mio percorso politico fin da subito ricordo la costituzione dell'associazione per la tutela delle vittime di Equitalia quando ero consigliere comunale a Conegliano nel 2007 2008 da assessore del comune di Padova anche con la delega alla tutela dei consumatori prima cosa che abbiamo fatto è mettere le associazioni insieme e chiedere loro di mettersi a disposizione a titolo di volontariato a fare cosa ad accogliere i nostri concittadini che erano in difficoltà perché le difficoltà non arrivano soltanto dai nuovi poveri vittime della crisi economica che abbiamo subito ma anche dalle vittime della burocrazia come abbiamo visto bene dalle banche e da Equitalia quindi locali comunali gratuiti dati alle associazioni per poter proprio accogliere e risolvere i problemi che hanno 4.000 ore 4.000 ore di accoglienza ai nostri concittadini abbiamo fatto in poco più di un anno e mezzo se qualcuno ci lasciava finire il mandato avremmo potuto risolvere molti più problemi dei nostri concittadini ricordiamo che l'assessore Buffoli faceva parte della giunta sulla tutela dei consumatori tutte le amministrazioni dovrebbero essere obbligate a mettere a disposizione a titolo gratuito degli spazi per risolvere i problemi davvero di centinaia e centinaia di nostri concittadini allora grazie problemi dall'Italia ti ritrovi ancora a Montezemolo ha distrutto la Ferrari il treno Italo ed è anche in Teleton dove gli italiani danno soldi va cacciato via ieri sera abbiamo parlato a lungo dello scontro tra i migranti tra i sindaci e i prefetti che vogliono l'accoglienza diffusa per i migranti e vediamo questo servizio dalla ex base militare di Kona dove come sapete c'era stata la rivolta dei di coloro che sono in questa base vediamo voglia di verità e chiarezza ma anche volontà di ricordare una ragazza morta nel tentativo di inseguire il sogno di una vita diversa a dieci giorni dalla morte che ha scatenato la rivolta di Kona il volto di Sandrin Baccaiocora presenta un messaggio ancora forte impresso sul tema caldissimo dell'emergenza profughi e mentre proprio a Kona il 19 e 20 gennaio una commissione di inchiesta parlamentare cercherà di capire situazioni antefatti di quei giorni della 25enne chiarezza e verità le chiede il marito della giovane che ora può contare sull'aiuto di un avvocato lui vorrebbe capire perché una ragazza di 25 anni è morta in quella maniera poi per carità può essere che alla fine sia stato un episodio veramente come dire inspiegabile senza precedenti insomma nessun dito puntato solo desiderio di sapere visto che Sandrin aveva avuto problemi prima della sua morte è stata accompagnata numerose volte ovviamente dagli operatori del centro di prima accoglienza presso presidi ospedalieri per esami strumentali di cui lui non ha i referti comunque vada il marito vuole che almeno ora il sogno di Sandrin si avveri vuole anche che sua moglie sia seppellita qui perché vuole rimanere in Italia e perché vuole poter continuare ad andare a trovarla nel frattempo sono due le manifestazioni programmate a Cona per ricordare la ragazza la prima sabato corte organizzato dal sindacato di base Usba le 14 la seconda domenica le 14.30 un'idea del regista Andrea Segre subito accolta dall'associazione Bassa Padovana Accoglie e che sta raccogliendo centinaia di adesioni da tutto il Veneto noi abbiamo dato concentramento a Conetta a pochi centinaia di metri dalla base probabilmente ci sarà anche una presenza di una delegazione di richiedenti asilo insieme a loro faremo una carovana di auto e ci sposteremo sulle rive dell'Adige In Golena sarà lanciato un fiori in acqua per chiedere scusa a Sandrin e ribadire la parola d'ordine riguardo a Cona e Bagnoli non possiamo girarci dall'altra parte dobbiamo dire che queste strutture vanno chiuse e va appunto ripeto costruito un percorso di accoglienza diffusa Zanetti allora stop alle truffe sull'IRPE fa danno degli italiani è un'iniziativa del comitato Marco Polo di cui è presidente Luigi Corò allora Corò di cosa si tratta io sono qua per denunciare una macro evasione ed è l'evasione di quegli stranieri dipendenti in Italia che riescono a recuperare grazie ad organizzazioni ben strutturate l'intero ammontare dell'IRPEF dichiarando di assistere nel paese di origine dei congiunti questo grazie a una norma che fa acqua da tutte le parti per assurdo per assurdo abbiamo dei fratelli almeno così così li abbiamo conosciuti che riescono ad assistere rispettivamente i genitori sia l'uno che l'altro e quell'altro ancora noi abbiamo presentato un esposto alla guardia di finanza dopo che abbiamo monitorato il fenomeno a Mestre abbiamo una realtà che è la presenza dei bengali questi praticamente hanno messo le tende all'ufficio delle entrate sono tutti i giorni là a richiedere i codici fiscali e scientemente riescono almeno così mi si dice a presentare la documentazione per lì avere l'anno successivo tutto l'IRPEF io credo che sia ora di farla finita cosa significa avere il rimborso dell'IRPEF significa non partecipare alle spese dell'IRPEF è rimborso dell'IRPEF quindi significa non partecipare alle spese sebbene se ne goda e significa gravare quindi su tutti gli altri io credo sia ora di farla finita non possiamo continuare ad assistere i congiunti del paese di origine bisogna cambiare la norma soprattutto se in quel paese non c'è un'anagrafe ritorno al caso di Bingley ma non è solo di quel paese perché pure della Liberia e pure del Senegal e del Nigeria non avendo un'anagrafe loro si limitano in pratica a fare un'autocertificazione presso la propria presso il proprio consolato questo viene poi in qualche modo certificato viene passato al prefetto di Duno il quale non può far altro che autenticare la firma del console e di conseguenza in automatico il rimborso il rimborso deve avvenire un assurdo un assurdo questo permette anche a questi di offrirsi sul mercato del lavoro a meno soldi perché è chiaro che se un lavoratore nostro pretende 1200 euro loro chiedendole 1000 le prendono più di fatto dall'altro tra quello che prendono subito dopo la mensilità e quello che recuperano poi la somma è ben diversa io pregherei se è possibile far vedere quella tabella riassuntiva che abbiamo fatto spiegando in maniera chiarissima ecco la spieghi lei un attimo ecco qui abbiamo un esempio di una busta paga di 20.000 euro l'orde noi vediamo vediamo quanto quanto il cittadino extracomunitario ovviamente quello che che non assiste di fatto i propri congiunti nel paese di origine riusci a portarsi a casa l'anno successivo altra cosa altra falla della legge ahimè il calcolo per decidere se un congiunto è da assisto o meno è legato alla nostra qualità della vita cosa significa che ogni persona che ha un reddito inferiore ai 2800 euro circa ha diritto all'assistenza che significa che qualsiasi congiunto ha diritto perché ovviamente un operaio in India piuttosto che in Senegal piuttosto che nel Magna di sicuro non arriva a percepire annualmente quella somma e naturalmente diventa di diritto assistito io credo che sia ora di farla finita non riusciamo ad aiutare i nostri poveri non riusciamo a garantire una qualità della vita ai nostri però facciamo da Bancomat per i paesi terzi anche quando non siamo in grado di valutare sebbene la legge lo preveda anche quando non siamo in grado di valutare se è reale o meno la domanda perché se non c'è la nagrafe ognuno può dichiarare di valutare dimostrazione che la stragrande maggioranza intorno alla realtà bingalese perché la conosco sono tutti nati o nei primi giorni dell'anno o in date ben precise che sono in qualche modo riconducibili alle loro festività questo perché perché non sanno neanche loro in realtà quando sono nati è un'ipotente il nome il nome lo dichiarano lo possono addirittura cambiare di modo che non esiste proprio questa è la legge non esiste assolutamente la possibilità c'è l'obbligo di poterlo mi perdone se le chiedo perché forse ho capito male ad avvallare tutta questa cosa qua sono i prefetti poi alla fine no il prefetto si limita a dichiarare che la firma del console è vera quindi automaticamente vuol dire che il prefetto a seconda se una cosa che gli interessa avvalla perché comunque fa prima avvalla automaticamente perché è vera automaticamente è vera però con questo non lascia anzi passa sopra i sindaci e gli amministratori comunali quando hanno un interesse proprio giusto? allora il ragionamento è questo nessuno è una teoria che condivido nessuno può applicare il DPR 445 del 2000 all'articolo 71 perché perché non c'è la possibilità di andare a verificare se il dato è vero perché non c'è la magra allora il prefetto che vada in banca così magari un pochettino sta fuori e la disposizione ahimè che crea tutto questo la troviamo nell'unico e testa dichiarata possono essere considerati familiari a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero e per congiunti non abbiamo solo figli ma abbiamo pure coniughe abbiamo pure papà mamma cognato cognata e quant'altro praticamente da quanto ho potuto verificare all'ubicio delle entrate almeno di mese c'è una valanga che riescono a recuperare tutto l'erpe queste persone vivono qua godono di nostri servizi ma non partecipano sebbene lo prevederebbe l'articolo 53 della Costituzione alle nostre spese credo sia ora il tempo di dire basta poi c'è qualcuno che dice che le pensioni sono pagate da loro dalle risorse come dice la Bellogini sono risorse dalle risorse sentiamo l'opinione di di assessore non hanno studiato matematica i conti cioè matematica non è che si può inventare così non hanno studiato o non hanno studiato ma insomma o se hanno studiato non hanno capito che è la stessa cosa il problema è molto semplice chi fa queste leggi qua bisogna mandarlo a casa per andare a lavorare su un posto se io avessi un collaboratore che fa una legge che prevede che un poveraccio che poveraccio se dichiara che ha tre mogli e quattro figli in Senegal gli danno indietro i soldi perché non deve farlo lo fa fa la dichiarazione poi il prefetto non può mica dire che il console non è la firma vera è vera però nessuno va a fare la verifica la gente è incazzata per questo motivo non perché si aiuta il povero ma perché si fa una discriminazione razziale importante se uno non è arrivato a quel barcone non è tutelato ora quando in stazione fa caldo io non voglio sapere se è giusto o se è sbagliato se fuori fa meno 10 e in stazione se è caldo si apre e non si guarda se ha diritto se non ha diritto perché la vita umana è sacra primo secondo questi ragazzi che partono dai loro paesi che noi ingrassiamo le mafie a partire da casa sua fin qua e poi per due anni quando li gestiamo e guardate che questi non sanno mica dove sono arrivati pensano di trovare il paese della cuccagna e sono destinati ad essere i futuri abitanti delle nostre favelas noi non ce le avevamo ce le stiamo procurando perché poi sentivo sempre qualcuno che diceva sì ma poi sono qua ma poi sono andati via sono scappati certo che sono scappati cercano poveracci stanno cercando una vita migliore in un paese che non capiscono che non sanno quali sono le regole e noi ce le stiamo distribuendo poi qualche pirla la sta chiamando accoglienza ragazzi non io l'italiano l'ho studiato magari non l'ho capito ma l'ho studiato accoglienza si applica a chi si vuole accogliere questi qua sono entrati clandestinamente la gran parte e non hanno nessun diritto di assistenza dovrebbero tornare a casa se voi andate come turista nel loro paese e non avete i soldi per mantenervi in albergo state nell'aeroporto e tornate con il primo volo a carico della compagnia aerea che vi ha portato allora questi qua vanno mandati a casa loro per il loro bene perché altrimenti le donne sono destinate a stare qui a fare le prostitute e i ragazzi a spacciare o fare altre cose perché poi a 20 anni uno in qualche maniera deve sopravvivere quindi parlo per il loro bene smettiamo di sfruttarli smettiamo di ingrassare le mafie e chiamando accoglienza a questa diffusione capillare dei clandestini che non porta da nessuna parte a me spiace per la ragazza di Cona figurarsi ma mi spiace anche per i due vecchietti che sono morti a Padova cioè tutte queste cose qua sono cose negative ma non è che do robe sbagliate in fauna di giusta cioè bisogna essere chiari tu non hai diritto a stare qua è meglio che stai a casa tua poi ci sono quelli che dicono no bisogna però investire a casa sua guardate non serve credete a me basterebbe rubare un pelo meno cioè quando andiamo a comprare i loro prodotti pagare un pelo di più quel che va ma stiamo creando un dissesto sociale con questi ragazzi che poi bisognerà a Corra, Ghedrio, Ciappagli e rimandarli a casa un bel giorno perché cos'è che fanno qua non avendo un mestiere non avendo una lingua e vediamo quali sono le difficoltà che abbiamo no? e non è possibile che il sindaco non possa spendere i soldi sono andato l'altro giorno da un amico sindaco dicevo prima alla Mirella che ha detto per piacere datemi una mano a voi perché mi non faccio più col bilancio c'è una signora che ne aveva bisogno e ho detto va beh e abbiamo passato gli ultimi soldi di fine anno e abbiamo aiutato questo caso non è bello perché io le tasse le pago e tutti quelli che sono qua le pagano e la prima spesa è quella per la coesione sociale a me fa piacere quando vedo queste associazioni che con le loro specializzazioni fanno coesione sociale perché si viene fuori dalla crisi stando uniti non abbandonando nessuno per strada stando attenti ai vicini stando attenti a che bisogno e dandosi una mano poi fammi leggere questo semestre adesso li trovi con lo smartphone l'ultimo modello che chiedono le lemosina fuori dai supermercati e da tutti i negozi e sono tutti ben messi e noi veneti siamo senza lavoro e la fotografia a Venezia poi uno scandalo ma in altri posti allora mendicare è proibito dalla legge quindi non si dovrebbe fare se uno ha fame gli si dà da mangiare insomma per me mi molesta sempre guardate io faccio volontariato ma la richiesta di soldi agli angoli delle strade non si giustifica mai ci sono tante associazioni e tante opportunità bisognerebbe mettere in grado il pubblico il comune di sostenere chi ha bisogno una delle poche cose che sono d'accordo con i sette stelle è quella della cinque una parte due e la con tutta la simpatia la proposta del raiuto di cittadinanza che mi ricordo in Germania c'era e funzionava benissimo e perché inutile tutte queste situazioni come quel signore che è stato aiutato come Dino come l'altro governo in civile fatemi rivedere quell'altro per favore che era prima governo in civile per la questione del poliziotto che ha perso una mano parliamo anche delle forze dell'ordine quando c'è l'occasione che rifiuta di pagare a un poliziotto la protesi per la mano persa in servizio ma ci obbliga ad accogliere tutte le miserie del resto del mondo dei metri attentato avrete sentito con un poliziotto che ha perso questa mano per colpa di questa esplosione allora andiamo tra poco dobbiamo andare in pubblicità però prima torniamo dalla Mirelluccia che stasera ha parlato meno di tutti andiamo sul Banco Solidale a Sant'Artemio la consegna delle borse della spesa alle famiglie bisognose è ripresa a pieno ritmo dopo le feste e questo grazie anche alla grande generosità di voi telespettatori che seguite l'attività del Banco Solidale di Rete Veneta e continuate a donare ogni settimana sia direttamente alla struttura di via Caldibreda che attraverso i supermercati voi cosa vuoi radicchio cacciofi banane ieri un signore ha portato tutti questi scatoloni guardate latte generi alimentari guardate roba che ha portato e lo ringrazio tantissimo e poi i clienti del Famila invece supermercato Famila sulla Nuallese guardate anche quanti scatoloni di roba ci hanno mandato ringrazio il direttore perché grazie a questo direttore anche la possiamo raccogliere perché la gente può mettere nel carello per i veneti schiacciati dalla crisi e poi quando i carelli sono pieni noi andiamo a prenderli guardate che bravi anche queste persone qua una generosità che fa ben sperare anche per questo 2017 appena iniziato perciò ringrazio tutti quanti della grande collaborazione e della grande solidarietà per aiutare questo banco solidale ma soprattutto queste persone in grande grande difficoltà grazie di cuore da Mirella e soprattutto da tutti i volontari ciao alla prossima come hai fatto in questi giorni in bicicletta col ghiaccio adesso la ne sono nata sbagliata mi è di sempre mio mario cioè il freddo non mi fa paura non mi dà fastidio però volontari che hanno più di 70 anni è veramente è una cosa però resistono perché cioè il volontariato ti dà la carica ti fa sentire caldo se vede non so stai a fine 7 di a sera il freddo io vado a casa e rimangono là perché è una grande soddisfazione aiutare il prossimo io lo consiglierei a tante persone però l'unica roba che vorrei dire cioè tutti parla parla accoglienza aiutiamo ma che vuoi schei ragazzi c'è sti imprenditori qua che ha bisogno di schei perché quei parole non devono da nessuna pagina capisco l'ascolto ho capisco l'ascolto ma si qua che ha bisogno di schei cioè ci sono tutti che si aggiremo che si ammenemo bisogna dar dei soldi che mettono in piena le attività che mantengono la famiglia non possiamo andare avanti e continuare a dire chi ascoltiamo questo è stupido che si ascoltai questo è che ha bisogno di cash e a parole non si fa niente mi vedo anche qua quando chi viene tutti bravi però da favoletta va a pagare la mia perché nessuno tira fuori un euro tutti bravi ma così a finire la trasmissione scampa tutti non sai chi ti dà 50 euro 100 euro che sono anche a me pochi perché gli schei fa fatica e si tirai fora invece questi imprenditori qua che ha bisogno di schei e psicologi e numeri verdi e numeri rose e numeri cessi e tutti i colori i numeri per ascoltare che ha bisogno di liquidità voglio capirle che ha bisogno di liquidità nel nostro piccolo per esempio subito ci siamo tagliati l'indennità del 10% e 140 mila euro all'anno andavano proprio per le famiglie bisognose di bollente ma è giustissimo il fatto di avviare l'ascolto non vuol dire che ci fermiamo all'ascoltare le persone e poi mandiamo a casa ma siccome è la prima parte che poi porta ad unire le persone e comunque le tira fuori di casa io parto con il discorso non abbiate paura di chiamare o di parlare con noi perché da lì poi parte tutto un progetto di assistenza però ecco sempre nel mirino un po' l'associazione di categoria che dicono anche gli iscritti ma per noi poi che cosa fa hanno perfettamente ragione è una critica giusta hanno perfettamente ragione ma in effetti la nostra associazione di categoria nasce proprio dall'esigenza di molti imprenditori di avere una alternativa a quelle che sono le associazioni classiche che oggi pur essendo anche piuttosto sovrastrutturati infatti tanti sono abbastanza in crisi anche economica se vogliamo ma non rispondono dando servizi ai propri associati noi siamo stati anche un po' criticati dal nazionale per aver iniziato dai veneti in crisi devo essere sincero la simpresa San Marco siamo stati un po' criticati perché sì però voi non state facendo soci facciamo anche soci perché assieme a questo che secondo me è un servizio oggi di primaria importanza quindi quello di cominciare a dare una mano alle persone che sono effettivamente in crisi abbiamo tutta una quantità di servizi anche poi per le aziende che vogliono comunque crescere e che vogliono anche andare all'estero non ad aprire fabbriche ma a vendere sui mercati esteri quindi a essere competitive perché abbiamo tutta una serie di servizi che poi magari una serata faremo anche proprio specifico sui servizi che diamo che sono tanti sono moderni veloci e soprattutto molto elastici ed efficaci proprio caso per caso noi abbiamo tanti allora Donadella una battuta che poi dobbiamo andare in pubblicità perché una battuta ho letto un messaggio prima di un ragazzo di una donna di un non so che diceva almeno moriamo speriamo di morire con dignità ecco io vorrei dire a questa persona non si deve morire con dignità si deve vivere sopravvivere con tutte le forze possibili con dignità perché non dobbiamo morire per quei quattro farabuti che stanno distruggendo la nazione anzi è già distrutta la nazione e anche sopravvivere vivere vivere perfetto dobbiamo andare in pubblicità e poi riprendiamo dal sindaco di Rossano Veneto Morena Martini state con noi tra pochissimo grazie grazie molto